Questo secondo me è un prodotto molto forte, con una forte identità, con una forte sostenibilità ed è un prodotto che ha lo scopo di supportare la Snyder nel suo sviluppo come azienda di successo internazionale in tutto il mondo per i prossimi 10, perché i prodotti di nostro design hanno una penetrazione all'estero sempre superiore al 50%, questo non lo smentisce assolutamente, ha tutte le caratteristiche del miglior design Pininfarina, perché è fluido, perché è armonico, perché è sicuro, perché è amichevole, è essenziale senza essere troppo minimale, è un corretto mix di tecnologia contemporanea, innovativa, ma anche calore italiano, il fatto bene, la scelta dei materiali.